Eccoci qua, inizia ufficialmente l'ultima settimana di PIL 2. Allora, a parte la velocità non è male, direi di fare sludge no? No, mega kick è meglio, però sludge può infliggere roba. Veleno 30%, non so eh, forse mega kick. Faccio mega kick. Nella mia testa rimbomba, è l'ultima settimana. Sì, ma Sand, tanto, ma ci ammazza Sand, bro, cioè, reflect. Facciamone un altro, shadow punch. Facciamo uno sword dance. Impossibile failare. Lo shadow punch, e via. Venti, gli oggetti li abbiamo presi tutti, 0% di cure. Paralizzato Pog. Porto. Direi di provare Dragon e resettare. Vai. Sodapop, mamma mia regà. Ma che sta succedendo? Una run come, una standard run di tutti gli altri streamer. Un miracolo, bro. E' il tanderone. Mudslap. Direi di no. Audun. La nostra run della settimana ce l'abbiamo avuta, eh. E' stato un piacere. La nostra P finisce qui. E' incredibile comunque, eh, bro. Questa roba è, è micidiale. Stab 154 per. Oido, però. Non penso di non averla mai vista in vita mia. Jolteon. Oh, manco male, eh. Manco male. Sharpen Mega Horn. Ho capito che ho special attack. Mega Horn è 120 di potenza. Ha tanta. Ce ne ho 14. Ho 5 di special attack in più, bro. Si lo confonde con quanta percentuale. 10%. Cioè, mai. Eccoci qui. Certo. Chiaramente. Siamo contro Ivisauri. Siamo Swampert. Eeeh. 22 di velocità. Con idro cannone stab. Ma sei pazzo? E a Drizzle. Alla madonna. Qua, secondo me, si fa comunque idro cannon. Cioè, idro cannone stab sotto pioggia gli ha fatto quello. Facciamo leech. Tasson effect Ivisauri. Miracolo. Oi, idro cannone. Ci avrà due di velocità, secondo me, eh. Minchia. Oi, idro cannone. Oh, signore, signore, Dio. Santissimo Benedetto. Ragazzi, io dove posso shottare è shotto, eh. Prego un cazzo. Gli lo faccio, raga, a rischio. Sei cazzo! Mamma mia, miracolo di Dio. Gli faccio un airquake e si va di misti. Gligar. Return. Preghiamo, ragazzi. Certo, pure Sandstorm, giustamente. Ci mancherebbe. Ah, vabbè. Inizia. Erlaprassone, che viene esploso. Raichu. Airquake. Sorrock. Abbiamo visto che non ha Levitate. Airquake. Kindra veniva shottato la return. Ma è Pokémon leggeri comunque hai, eh, fratello. E qui lava. Se ne va a fare in culo. Seedot. Esplodi. Si vola. Ma io non me la gioco di PP qua. Ce la facciamo, secondo me. Allora, guard, poi c'è Idropompa, ma con return la stiamo shottando. È vero che Incent Power non è male il primo Pokémon, però ragazzi, questo va tolto, perché Idropompa ci fa male. Quindi vogliamo shottarla. Incent Power non so se l'ha shott. Raichu. Adesso va di Airquake, bro. Vario, Airquake Easy. Arbok. Non sa neanche pensarci. Flygonone. Facciamoli un return a Flygon. Non so se l'altra volta lo troviamo. Sì, capo. Andiamo. Satu. Senti, io PP ce l'ho. Li faccio return, che prima è morto. No, sono un coglione. Mamma mia, meno male. Il misclick qua no, eh. Airquake? Ray Ancient. Return qua. Fuck it. Godo. Godo, 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 Godo. Si può andare, dai. Senza starci a pensare troppo. Forza Antica subito. Peccato, magari ci baffava. Return. Ancora. Airquake? Airquake? Return. Via. Ok. Lascia Destiny Bond, raga. Si va a casa. God damn. Mamma mia. Preghiamo, preghiamo di shottarlo. Mamma mia, signore. Ok. Terremoto. Ok. Ok. Si vuole, ragazzi. No, non è il 55, ci abbiamo con Punta Ice. Zorrock. Ci siamo boostati, eh. Ok. Mamma mia, si parte malissimo, bro. Curo. Ok. 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 E una. Ok. 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 vince no e busta mi mai orta return andiamo ad ammazzare se almeno non lo ammazziamo lui underwave shift 3 return qui direi ancient tutta la vita no? però è un 3.30 potremmo curarci in realtà adesso eh facciamo una limonata sneezle allora l'abbiamo sempre shottato con terremoto io farei ancient comunque qua terremoto dai cazzo raga la vecchia ci ammazza la vecchia raga me lo sento noi non lo ammazziamo ok nooo io devo curare la paralisi porco dio sono un demente eh ma ho paura che tanto mi rispammasse thunder per quello che non ce l'ho x attack bro devo curare la paralisi devo fare un full un full restore un full restore missato bro preghiamo capirai ammo cantato raga grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Sì, sì. Oh gesù santo Me la rollo raga Senza pensarci Eccolo qui Sto missando Non ho idea di quante volte Sa che abbiamo cantato Regà Ci ferma Proprio sto va il plum Ok Ci stiamo portando a casa i punti Oh Sti cazzi E' stato bello Micchia tutti i muddy water Mi sa che partirà qualche run divertente Oh audio Faccio bite ma intanto Credo che Canteremo eh Oddio forse con un energy root Sai che La spanghiamo Potevi spammare Diokane La solita mossa No Sbagliato Sbagliato Avevano comunque morti Dovremmo anche tecnicamente Sto per dire attaccare prima E invece No Allora partiamo con fake out Intanto Non sta scendendo Niente Ci abilizza Oddio cane Bene Ok Ok bro Va bene Peccato Qua ho shottiamo Abbiamo cantato E dove Ecco Se non ho shotto neanche così Però bro Gigadrain No Purtroppo non si può Proviamo Razor Ok No No Quanti Vabbè Dai bro Però Quante volte ho missato Eh no Ecco Mamma che sfiga Non ho modo di ucciderlo Cioè Se non facendoli questo Quindi Posso voler cantare Ci abbiamo 17 di velocità Secondo me Attacchiamo prima Li faccio waterspout Ragazzi veramente Però c'è Mossa da 150 Gli abbiamo tolto Penso 10 hp Non lo so Mud ha senso Anche mud Vediamo quanto li togliamo con mud Ah c'ha pure color change Capito C'ha la perry Non ci posso crede Non c'ha la perry C'ha la softboil Vabbè Dai regà Però Di che stiamo a parlà C'ha il rough skip E la c'ha fiamme Direi Idropompa E moriamo Da zack Che T'hai tentato di fargli Memento Siamo partiti col filotto Fire Eccoci qua Revenge Pronti Spamerei rock tomb Shadow punch E a sto punto Continuiamo C'è abbiamo NG root Niente Sì vabbè Ok Intimidate Poi Certo Fight Incredibile Farei weather Vediamo quanti ne li facciamo Li faremo tipo Un hp Flinciato Flinciato ancora Morto Bene Se ne inizia Siamo tornati Siamo tornati Alle vecchie run Basic power In realtà Potrebbe aver senso No Proviamo Extra senso Ok Poco più danni Crittato Da earthquake Tutto Vai Run buttata Sì Come Il mio preservativo È pieno di sborra Dopo che l'ho messo nel culo A tua mamma Ieri sera Potremmo fare anche Owl Owl into double Proviamo Owl into double Vediamo un po' Sa che abbiamo cantato Sì Eeeh Allora Il dubbio è tra Splash e wing attack Ok Che niente Niente Solar beam Morto Eeeh Io direi Arcanine Sono tornate Le nostre run Signori Mezzasagili Toglierà tipo Un tick Probabilmente Ah in realtà Zitto va Pure metronomato Sto coglione Ok Ci siamo Sì sì no Benissimo per l'esperienza Quello Sicuramente Venti Raga Eeeh Tiriamo dritto E preghiamo Gesù Va bene così Ho trovato io Me lo merito Che demente sono Die cane Ho contato un po' Come nemmeno Giusto così Eeeh Succede Siamo scarsi Eeeh E' normale che succeda Eeeh Direi dragon claw qua Eh questa fa male eh Sa che abbiamo cantato Non so Qua bisogna fare confusion Eeeh Vediamo quanto li togliamo La Posta Ehi capirai Capirai Peccato Puoi per favore Da Vabbè dai rega Io cioè Non Vabbè Non Dragon rage Direi razor wind Absorb Proviamo Certo Sì sì Va bene fratello Ok Vai Thunder con pioggia Si vola Oregon 2 all'8 Ci piace ancora di più Psichico Un po' meno E ora Siamo contro Il cazzo di coso Dai vabbè Non è Non è normale Sta roba C'ho il turbo Attivo Certo Senza Diventato ingiocabile Come sempre 4 fughe fallite di fila Va bene così Con la percentuale Che si alza ogni volta Pensavo di morirci Direttamente contro di lui Qua va Bisogna curare Però Bisogna curare Per forza Mamma mia Dip Però Cioè Va bene Andiamo di Outrage Andrei di Outrage Subito Perish Song Si è protetto Miracolo Si sa come si è uscito Siamo comunque morti Giusto Va bene così E' finita la battaglia Ma che cazzo vuol dire Proviamo a portarci a casa Questi punti del rivale Si parte malissimo Allora Beh almeno abbiamo 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 fulchirato no? Sinchino e preghiamo che il primo pokemon Non sia un demonio certo Abbiamo cantato raga Hyperbeam, mi curo E vediamo dopo Fissato Hyperbeam Paralizzato Morto Moriamo perché non abbiamo trovato cure No perché non riusciamo a farlo in tempo Vabbè tanto moriamo comunque Più andrei di Mega Kick raga Non faccio Poison Powder Primo pokemon preferito Sì in 60C In più No forse anche settimana scorsa Uno solo mi sembra Niente Paralizzato Immobile Paralizzato ancora Paralizzato ancora Ok bro Paralizzato Niente Cioè abbiamo beccato 8 paralisi raga E va bene così Oh questo non ci assende Proviamoci raga Niente E vado di ipnosi Sono stato frizzato bro Ice Beam mi ha frizzato E io ho preso E io ho preso il Frozen Sì potremmo fare anche Possiamo fare Attract E poi dopo Rollare una di Eh certo Apriamo Magical Ok Magical fa tanti danni Morto Bite Io faccio Hit Wave Eccoci qua Vai Abbiamo cantato Subito proprio Peccato Guarda qua Guarda cosa ha imparato bro Cazzo di scarogna Mamma mia Dizzy Punch Credo no Mi ha tolto esattamente la metà Posso riuscire Vabbè Facciamoli comunque Second Fire Siamo sotto il sole Anche se non c'è Un special Non c'abbiamo Altro Altre mosse Ho capito Non so quanto Eccoci qua Vai O se ce lo facciamo Se ce la facciamo Tipo ci ciuccerà Un Un'infinità Proviamoci Ok Jump Ma io glielo faccio Un aero Da pensarci Curiamo Andata Frozen Solid Frozen Solid Un'altra volta Un'altra volta E siamo tutti A letto Vai Niente Possibile failare Mega Rostab Safari Morto Proviamo a fuzz up Eh niente Non commento Neanche Vabbè Andata così Eeeh Proviamo a rock throw Tante quali C-shot Prova Fa solar beam Regà Morto Eeeh Blaze kick Avevamo 8 di attacco S-17 Facciamoli blaze Ma tanto moriamo Proviamo a rock throw Proviamo a shock Li facciamo un pochino Più di danno Con shock Ma neanche troppo Proviamo a avvelenarlo Bro Ma Eeeh Impossibile Entrare Niente Sono morto Che ha detto Le Ci mancava effettivamente Questa settimana Di solito sono in media 2-3 2-3 a settimana Questa è la prima Dragon dance Ah Ho capito Lizard Crittato Senti Pin ne spara 2-5 Eeeh Direi dragon Cloth Tutta la vita Qua Open missile Capito Eh certo Un bel Warren Con intimidate Perché no Vabbè Si può Nel problema Eccolo qua Opla Oh Adesso l'arraggio Ce l'ha pure lui bro Siamo morti Boh Gliela do Giusto per Siamo morti 8 volte Dal defrosting Queste ultime run Pokemon Il forte Pokemon del mondo Questo Questo Io gli faccio comunque drill Perish song bro Non ci credo Impazzisco Quante volte siamo morti Quante volte siamo morti A Destiny Bound Perish song Direi di fare Super Fang Probabilmente ancora No Tormenta Che torno Mi faccio Sono colpito nella confusione E sono morto Aggron vs. Idol Lo scontro del secolo Allora ci abbiamo 7 di attacco Dai si riabbassiamo la speed Addiggato Rip Fine Abbiamo fatto 5000 passapunti Abbiamo recuperato Direi Abbastanza posizioni Poteva Poteva farne forse Molti di più Però non ci lamentiamo Purtroppo Questo è quanto Ci è andato Ci è andata Molto 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 male Le prime 4 settimane 5 settimane Quante sono state Non siamo riusciti Altri a fuori Una run Charizard Oggi abbiamo fatto due run È la prima volta Che lo incontrano C'è spugli Charizard Comunque anche Stasettimana Non ci lamentiamo Perché hanno fatto 6000 out of Brock Ci mancherebbe Però siamo morti In maniera un po' cazzona Una run L'abbiamo trollata Cioè la gente Sta tipo a 16000 punti Cioè uno ha vinto 4 volte la Lega In 6 settimane Cioè ragazzi Di che si sta parlando Una run Con un pokemon decente Oggetti E mosse Tra l'altro Si forti Ma relativamente Perché poi sono rimaste Velle da Brock All'infuori Arrivi alla Lega All'ultima Trene della Lega Quindi La dimostrazione Di quanto Lo skill La skill base Di questo gioco Sia forse Una virgola Prima di Brock E poi sia solo Uno spammare le mosse Sperando che Sperando che l'avversario Non Abbia nulla Anche perché poi Arrivi a shottare tutto A un certo punto E poi Te la giochi Dalla via vittoria E poi Iniziano a shottare più Abbiamo fatto il possibile Sicuramente Potremmo fare molto meglio Siamo Settimi Settimi E sotto C'abbiamo turna Che ci supererà Sicuramente Quindi Andremo ottavi Melidor ci supera Sicuramente Quindi andiamo Noni Simone Molto probabilmente Mille punti li fa Quindi andiamo Finiremo Dieci Undicesimi No Dada Non ce la potrà mai fare Sta a 573 Trai 533 Sta a 9.400 Budilisius 15.000 punti Sotto Thunder 14.000 Creepy 14.000 Poli 13.000 Mattia 11.000 Che sta ancora 508 Trai Quel verme Volpe 10.900 Noi 10.800 Per adesso Va bene Amici Fate i bravi GG Per questa Per questa settimana Peccato per la run di Porygon Terriest non recrimino niente Non recrimino